Buonasera e bentornati qui su Radio Pestum. Oggi abbiamo un ospite davvero speciale che molto cortesemente ha accettato l'invito di essere mio ospite. Ecco a noi il professor Matteo Bassetti. Professore, buonasera e benvenuto qui a Radio Pestum. Buonasera, buonasera a lei, buonasera a tutti. Io la ringrazio, sappiamo bene i suoi innumerevoli impegni, eppure è stato così disponibile anche se noi siamo una piccola realtà. Questo le fa un grande onore. Grazie ancora. Io amo la Campania. Per me la Campania è la mia seconda casa, per cui ogni volta che vengo in Campania, che sia Napoli, che sia Pestum, che sia Caserta, per me è casa, per cui grazie a voi dell'invito. Ne siamo onorati e quando vorrà qua Pestum avrà degli amici che l'aspettano. Lei è un volto noto, amico e quasi ci è stato molto vicino nei tempi del Covid. A me personalmente mi dava comunque tanta rassicurazione, anche se era molto concreto, non ha mai detto cose, non ha mai indorato la pillola, diciamo. Però anche quella concretezza, poi nel momento in cui si sono iniziati ad avere le buone notizie, a me personalmente ha rassicurato. Ed ecco perché l'ho voluta anche fortemente, la ringrazio ancora qui, la mia è una rubrica, una gastronomica. Anche se se ne parla tanto dell'effetto nocivo, benefico dell'alimentazione sul nostro organismo, poi sembra sempre che non sappiamo come comportarci a tavola e in primis quando si va a fare la spesa. Capita un po' tutti, ci troviamo davanti a tante proposte e dire ma cosa mangiare, cosa mi fa bene, cosa mi fa male. Allora facciamogli sentire da professore Bassetti. Quali sono le cose, diciamo, da evitare e quali sono le cose che ci possono aiutare anche a combattere le influenze? Siamo un pochino tutti in questo momento malandati a causa delle influenze che ci stanno attaccando. Ma guardi, è difficile dire che cosa non mangiare. Diciamo che in generale, ovviamente, le cose più buone sono in genere quelle che fanno male, purtroppo, e lo sappiamo bene quali sono, dal burro ai dolci, particolarmente quelli molto grassi, quelli pannosi sicuramente, ma in generale non fa bene tutto ciò che è altamente processato. Parlo, per esempio, anche banalmente le farine piuttosto che altri alimenti che vengono molto... la farina, per esempio, che viene molto filtrata, la feltrina che viene in qualche modo molto lavorata. E questo è quello che succede, per esempio, nei confronti di alcune merendine confezionate che usano delle farine particolari. Quindi, in generale, diciamo che ciò che fa peggio è ciò che più è elaborato, diciamo. Quindi io invito sempre a fare il più possibile un'alimentazione che va nella direzione di ciò che ci offre anche la terra vicino a casa, il cosiddetto chilometro zero, e quindi la vostra terra, certamente i pomodori, che sono la vita in qualche modo. Quindi cercare di utilizzare soprattutto tanta frutta, tanta verdura in questo periodo, perché è molto utile... la frutta ci dà le vitamine, che sono fondamentali anche nella stimolazione del sistema immunitario e anche nel darci le vitamine, che sono fondamentali nel difenderci nei confronti delle infezioni. È proprio di questi giorni un lavoro scientifico pubblicato su una delle più prestigiose riviste del mondo, il British Journal of Nutrition, che dice che uno o due kiwi al giorno hanno una quantità spaventosa di benefici possibili. Quindi il kiwi, l'arancio, il limone, certamente, ma anche le verdure, verdure a foglia larga. Quindi io credo che un'alimentazione dove frutta e verdura la fanno da padroni è un'alimentazione che non sbaglia mai, ecco, voglio dire, dove cerchiamo di limitare il più possibile l'apporto di tutta la parte, diciamo, grassa. Fondamentalmente la carne è giusto che ci sia, ma deve essere un giusto mix tra la carne bianca e la carne rossa. Il pesce fondamentale, soprattutto in una terra come la vostra, che è comunque ricca anche di pescato locale, è quella di evitare soprattutto alcune tentazioni che sono quelle che in qualche modo sono le cose in generale più buone, sono quelle che poi anche fanno peggio. Io per esempio amo straordinariamente gli insaccati e i formaggi, però sappiamo che i formaggi insaccati bisognerebbe limitarli ad alcuni giorni. E poi non facciamoci mai mancare un bicchiere di buon vino italiano. Ecco, questa è una cosa, ecco, con moderazione, ovviamente, ma un bicchiere al giorno non credo che possa dire che faccia male. Ecco, poi se andiamo a vedere gli studi scientifici che dicono che l'alcol si correla ai tumori, certamente ci sono dei dati, però è sempre la moderazione che in qualche modo governa sulla nostra dieta. Certo, quindi ritornare alla nostra vecchia dieta metterranea di cui il biocilento ne patria. E semmai anche cucinare di più a casa, fare di più con le proprie mani. Ma lei è professore, cucina? Io cucino, ma devo dire, mi diletto soprattutto al sabato e la domenica per gli amici, devo dire, quando ho tempo. Mi piace molto cucinare, è una delle cose che mi rilassa di più, in assoluto, mettermi lì con un bel bicchiere, io amo il pino nero, un bel bicchiere di pino nero, un po' di musica e poi mi metto lì e cucino. Allora sono lì che sminuzzo l'aglio, sminuzzo il prezzemolo, preparo, mi faccio tutte le basi e poi siccome mi piace molto, soprattutto i primi, i primi piatti, quindi diciamo che mi diletto con primi romaneschi, dalla Griscia alla Carbonara alla Matriciana, sono diventato nel tempo, non dico esperto perché è una parola grossa, però insomma mi piace dilettare, mi piace saltare con la padella. Sono pieno di padelle d'assalto, io intanto quando vado con mia moglie magari in qualche negozio, lei va nel negozio di vestiti, io vado e mi compro una padella. Questo è bello, abbiamo conosciuto un altro lato del professore Bassetti, molto molto simpatico. Professore, un'altra cosa che mi premeva anche chiederlo, proprio inerente al suo libro, Pinocchio in camice, circa le fake news nel campo medico. Qua un poco grazie o per colpa anche di internet, come un qualcosa abbiamo visto negli ultimi anni, siamo un po' tutti medici, virologi, sappiamo tutto di tutto perché ci andiamo a informare, però quante e quali di quelle notizie poi sono vere effettivamente, realmente? Anche nel campo dell'alimentazione, quante diete miracolose, alimentazione straordinaria, manci appunto solo quello e dimagrisci. Come possiamo capire da cosa protegge? Guardi, uno dei campi dove ci sono in assoluto più fake news è proprio quelle delle diete. Tanto è vero che nel libro di cui lei parla, di cui si parla, io ho dedicato un capitolo intero alle diete e a un certo punto, proprio all'inizio del libro, del capitolo, adesso glielo leggo perché è molto interessante, faccio menzione che le prime balle, diciamo, del mondo mediatico sono state proprio quelle che hanno afflitto le diete. Insomma, basti pensare anche al nostro paese, voglio dire, ve lo ricorderete tutti il film con Pozzetto, 7 chili in 7 giorni, quella è stata la più grande balla colossale per non arrivare, per passare da Fantozzi quando va alla clinica del dottor Bircherheim, dove lui mangia le polpette, lui lo guarda, lo chiudono e... ecco, e soprattutto è un tema su cui le fake news fondamentalmente viaggiano a una velocità impressionante ed è stato la parte più pressante nella storia moderna relativamente proprio alle fake, perché se noi guardiamo e digitiamo la parola dieta su internet, vengono fuori non quelli che sono esperti di diete, i dietologi, i nutrizionisti, ma vengono fuori i pallisti, cioè quelli che ti raccontano come fare alla dieta del gruppo sanguigno, la dieta salta due giorni, salta tre giorni, quella dissociata, quella super associata, quella distanziata, quella con quello e senza quell'altro, ecco, tutte queste cose, noi dobbiamo andare verso il bilanziamento anche nelle diete, una dieta bilanciata è la dieta migliore che ci possa essere, perché fondamentalmente, come dico nel libro, una corretta educazione alimentare deve svilupparsi a tutti i livelli, iniziando già dalle scuole, potrebbe aiutare una migliore gestione dell'uso, dell'abuso e del rato uso delle diete, diminuendo l'effetto della sempre più presente e pressante spinta commerciale e mediatica gonfia di balle. Questo dico nel libro, quindi attenzione alle diete, attenzione ai guru, quelli che ti dicono vieni da me nello studio per 100 euro, ti dico se sei allergico a questo, questo, una delle più grosse balle, è quella che ti fanno l'allergia, l'allergia, ma le allergie non si fanno con una macchina computerizzata, ci sono dei sistemi specifici, quelli che dicono sei allergico al frumento, non puoi dire, se a uno gli devi dire che non deve mangiare la pasta, non è che gli devi dire che è allergico, a meno che non abbia una malattia, e allora quello è un altro discorso che rientra dagli allergologi, allergologi, voglio dire, se gli devi dire che non devi mangiare la pasta, ti dici, guarda, tu è meglio che pasta e focaccia, non le mangi, se no ti viene il pazzolo. Certo, questa è la cosa, sì, perché un po' tutti vogliamo mangiare, vogliamo mangiare tanto e poi vede essere belli, snelli ed in salute, forse è quello il problema. Diciamo che è un po' la società moderna che ci porta a questo, cioè io credo che fondamentalmente a me piaccettava tanto la società di una volta, una volta quando si doveva rappresentare una donna prospera, che era una donna che tutti volevano, la rappresentavano una donna in carne, voglio dire, i dipinti del passato erano così, i poveri non magri e i grassi erano un po' più corpulenti. Ecco, questo oggi è esattamente il contrario, tutti vogliono essere magri, tutti vogliono stare nella 38, vogliono avere il vitino, vogliono avere, ecco, voglio dire, attenzione perché poi questa ricerca estrenuante estrenuante dell'estetica poi penalizza anche il nostro organismo, il nostro corpo, bisogna fare molta attenzione, perché le diete possono rovinarci per tutta la vita se la sbagliamo, e quindi fare molta attenzione sulle diete, su chi le propone, e affidarsi sempre a professionisti seri. Quindi meno a internet e ai professionisti seri? Assolutamente. Professore, io la ringrazio, la lascio ai suoi mille impegni, ancora, ancora, veramente infiniti, grazie per le sue parole. Io la guardo e la seguo sempre in tutti i suoi interventi, assumendo il suo modo di fare e anche il suo modo di trasmettere come una linea guida per districarci un pochino in quello che può essere l'ambito medico, appunto come le influenze, chi ci dice una cosa e chi ci dice un'altra. Beh, io ascolto il professore Bassetti, quando il professore Bassetti mi dice di fare o di non fare una cosa, se quella è permessa, io la faccio. Professore, grazie, le auguro un buon proseguimento di serata e le auguro un grande fine settimana. In quale posto bello andrà questo fine settimana? In questo fine settimana starò a casa, ma a questo fine settimana c'è anche una partita che sento nel cuore, Napoli-Genova, quindi voglio dire, siccome molti dei suoi ascoltatori saranno sicuramente tifosi del Napoli, sappiano che dopo il Genua io amo il Napoli. Va benissimo, la ringrazio professore, viva lo sport tutto, arrivederci, arrivederci. Arrivederci, arrivederci.